Il giudice del Tribunale di Arezzo ha bocciato gli obbedienti del Comitato Acqua Pubblica dando così ragione a nuove acque. Vi avevamo raccontato già la storia della famiglia retina che aderendo alla campagna di obbedienza civile aveva deciso di autoridursi la bolletta dell'acqua del 13% quota della remunerazione del capitale investito e il gestore così le aveva interrotto il servizio idrico. Il Comitato porta avanti da anni la sua battaglia autodecurtandosi parte della bolletta per quella che loro sostengono sia la mancata applicazione dell'esito del referendum sull'acqua pubblica del 2015. Ma in sede civile il giudice del Tribunale di Arezzo ha respinto la richiesta avanzata dallo stesso Comitato. In sostanza la richiesta di riallaccio immediato per garantire una quota minima d'acqua e morosi per il fabbisogno familiare è stata esclusa dal giudice che ha interpretato la legge secondo cui la quota minima sarebbe dovuta solamente a coloro che sono morosi incolpevoli. Non si tratta dell'unico caso aretino su cui il Tribunale di Arezzo dovrà pronunciarsi. Il 19 aprile verrà esaminato infatti il caso di un'altra famiglia, ritenuta anche questa morosa dal gestore.